Tabata è un hair stylist di successo. Ossigenata, occhi di ghiaccio e con poco senso dello humor. Odia i pianistei. Con le buone o con le cattive, rivoluzionerà ogni salone di bellezza in crisi. Se un taglio sbagliato è l'incubo di ogni donna, Tabata sarà l'incubo di ogni hair stylist. Tabata Mani di Torbice. Mercoledì alle 22.10 su Real Time.